Io sono origine egiziana, sono dall'Egitto, adesso sono italo-egiziano, dall'82 che sono qua, capito? Ovviamente non capivo niente dell'italiano, però frequentando la gente stanno in mezzo a loro, mi hanno insegnato sia l'italiano sia come vivere pure. Oddio, era un'avventura, non ci stava un motivo esatto, cioè più che magari il piacere di conoscere altre persone, altre culture, altre donne, capito? Cioè un po' di tutto. Guarda, sono qua del 83-84, cioè ho vissuto il mercato sia quando stava all'aperto e adesso. Ecco l'animato quadro offerto dal grande mercato all'aperto di Piazza Vittorio. Guarda che prima il mercato di Piazza Vittorio rappresentava Roma, veramente Roma, Roma di Giulio Cesare al modo mio. Roma di Pippina, Giuseppina, Pezza Rughetta, la gente che camminava in mezzo al mercato, era proprio Roma. Gli asseritori della barzelletta, della risata, delle prese in giro alle persone, di parlare con le clienti, di dargli la ricetta. E il cambiamento adesso con l'arrivo delle immigrate che hanno portato la loro cultura, che è il cibo, fa parte della cultura delle Nazioni. E ovviamente il cambiamento c'è. Adesso Roma non è Italia, ma Roma al mondo. Grazie. 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 Grazie.